Il settore dei chip corre. STM è sui massimi di periodo. Cosa fare ora con il titolo a piazza affari? Vediamolo insieme. Una seconda strategia che ha come sottostante di stampo ribassista una carta rossa e se adesso un secondo solo che recupero il grafico lo andiamo a vedere, ho utilizzato un time frame su base settimanale per andare in questa direzione. Vediamolo. Sostanzialmente visto quella che è stata la carta scorsa settimana che è una sorta di ingolfing, non è tecnicamente un vero e proprio ingolfing perché abbiamo la parte inferiore della candela di due settimane fa che era stata più ampia, però considerando i livelli dove eravamo e dove siamo eccetera eccetera eccetera, anche qui in termini di risk reward con un aspetto, un taglio speculativo con due livelli, con due stelline in termini di confidenza, di fiducia, sulla strategia, ecco che ho detto. Vado a proporre una strategia ribassista con ingresso a 47,35, sostanzialmente è questo top che trovate qui tutto l'intervallo, però anche 47,50 può essere shortabile, con un tar con uno stop sopra questi massimi, quindi sono andato a individuarlo a 49,35 euro. Il target, qua ho usato un po' la tecnica del para quasi, uno a uno. Adesso avrei voluto essere più ambizioso, portarlo qui sotto, area 38,50, 40. Sapete che c'è qua il para, ci sta prendendo schiaffi a destra e a sinistra, abbiamo bisogno di punti. Target 42,50 su questi minimi, su queste lunghe shadow che abbiamo visto anche in recente, nel corso della seduta del 27 di febbraio scorso. Insomma, questa è l'operazione che vado a proporre. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie a tutti.